Buonasera a tutti, sono Elena Levental, direttore barra direttrice della Fondazione Circolo dei Lettori che per questa serata devo dirvi che parlare da questo palco è molto emozionante, è un luogo immenso ma accogliente al tempo stesso, veramente una rarità, quindi grazie alle OGR per questa straordinaria ospitalità, grazie alla Fondazione CRT, alla Camera di Commercio che hanno contribuito in maniera importante a questo grande evento che non stento a definire il cuore di questo festival del classico che ci sta dando delle grandi soddisfazioni perché è un festival alto, non facile, con un tema apparentemente remoto, lontano nel tempo, la dicotomia fra schiavitù e libertà, eppure di incontro in incontro, di momento in momento ci rendiamo conto noi stessi al Circolo dei Lettori ma soprattutto il nostro pubblico di quanto questa riflessione sia attuale, pregnante e financo necessaria. Oggi poi in questo momento con il professor Galimberti che ci racconterà la sua idea e la sua illusione di questa libertà che dobbiamo imparare a capire se è una condizione o una circostanza e quali sono i suoi limiti e qual è la responsabilità che la libertà ci chiama ad esercitare. Ebbene non mi resta che lasciare a lui la parola e a voi l'ascolto. Grazie a tutti. Grazie. Si possono abbassare le luci sul palco? Perché io non vedo nessuno. Se si abbassate un po', ecco, se no mi sembra di essere in una condizione autistica. Bene, l'illusione della libertà. La tesi è che la libertà non esiste. Però esiste l'idea di libertà. E le idee fanno più storia di quanto non facciano i fatti. Non so, giusto per fare un esempio, Dio nessuno l'ha mai visto, però l'idea di Dio ha fatto una storia grandiosa. E così noi abbiamo delle idee che a fuori di essere radicata nel tempo lasciano credere che siano vere. In realtà svolgono un'altra funzione, le idee. Quella di organizzare la società in modo tale da farla vivere con la minor conflittualità possibile. Perché dico che non esiste la libertà? Per la semplice ragione che, a differenza degli animali, l'uomo non ha istinti. Gli animali hanno istinti e quindi non sono liberi. Appena nati fanno quello che l'istinto gli detta fino al giorno in cui muoiono. Gli uomini non hanno istinti. L'istinto è una risposta rigida, sottolineo l'aggettivo rigida, agli stimoli. Se io faccio vedere una bistecca o una mucca, la mucca non la mangia. Se gli faccio vedere un covone di fieno, lo divora. Gli uomini non hanno istinti, ma hanno pulsioni, spinte generiche, a metà indeterminate. Lo stesso Freud che all'inizio delle sue riflessioni sulla psicanalisi usava la parola instinct, poi l'ha abbandonata, proprio in considerazione del fatto che gli uomini non hanno istinti, e usò l'espressione trib, che vuol dire spinta. Noi l'abbiamo tradotto in italiano compulsione. A metà indeterminata, anche il famosissimo istinto sessuale, così poco istintivo, che io posso esprimermi sessualmente anche con un tacco a spillo, o comunque percorrere tutte le perversioni possibili e immaginabili, cosa che non sembra sia concesso agli animali. Oppure posso assegnare a una pulsione sessuale una meta non sessuale, fare un'opera d'arte, un romanzo, una composizione poetica, quello che Freud chiama sublimazione. Allora noi confondiamo l'indeterminatezza della nostra esistenza, priva di istinti, con la libertà. Non siamo liberi, siamo indeterminati. E questa condizione di indeterminatezza è caratterizzata dal fatto che abbiamo bisogno, per esempio, per crescere, di essere educati, mentre gli animali non hanno bisogno di educazione, perché c'è l'istinto che li governa. Abbiamo bisogno, per convivere, di avere dei comandamenti in chiave religiose, che ci dicono cosa è permesso, cosa è proibito, ma questo, prima ancora, delle religioni, era anche la cultura dei primitivi che distinguevano il totem dal tabù, ciò che è permesso, ciò che è proibito. Abbiamo bisogno di leggi, abbiamo bisogno di istituzioni per poter convivere, da cui gli animali sono del tutto esonerati, perché hanno l'istinto che li regola in maniera rigida. Gli uomini non hanno queste cose, che gli uomini non abbiano istinti, lo racconta Platone nel Protagora, lo racconta Kant, prima di lui l'aveva anche affermato Tommaso d'Aquino, Nietzsche, nel novecento Bergson, Gelen, Arnold Gelen, che ha scritto un bellissimo libro intitolato L'uomo, in cui definisce l'uomo un mangelbesen, una natura mancante, mentre l'animale ha un rapporto organico con la natura grazie all'istinto, l'uomo invece non ha un rapporto organico, perché è indeterminato e ha bisogno allora di tutti quei correttivi culturali, che sono i comandamenti delle religioni, le leggi dello Stato, le istituzioni, per riuscire ad arginare queste pulsioni indeterminate. Questa è la grande differenza tra l'uomo e l'animale. Per cui, è necessario anche smontare delle abitudini mentali o rimuovere certe definizioni che fuori di essere ripetute sono assunte come vere, tipo l'uomo è un animale ragionevole. No, non è un animale, perché mi manca la caratteristica fondamentale degli animali che è appunto l'istinto. Se noi guardiamo le culture che sono la base dell'Occidente, che sono rispettivamente la cultura greca e la cultura giudaico-cristiana, i greci non avevano nessun concetto di libertà, perché per i greci la legge la fissava la natura e a regolare le leggi di natura era la necessità in greco anankh, rispetto alle quali né gli uomini né gli dèi avevano potere. I greci, dovete sapere, avevano delle parole gutturali per esprimere delle potenze che non potevano dominare. Anankh è una di queste. Non so, un altro esempio potrebbe essere ygnos, con cui i greci chiamavano il fuoco del fulmine, a differenza invece del fuoco che accendevano nelle loro case che era dominabile e lo chiamavano pur. Infatti noi abbiamo la parola igneo da ygnos, la parola piromene a proposito di pur. La natura ha delle leggi immutabili che nessun uomo nessun dio fece e queste leggi devono essere catturate dall'uomo in maniera tale da costruire una città secondo natura, secondo le leggi della natura e una conduzione della vita secondo la natura. A regolare la vita dell'uomo è quindi la legge di natura la quale fornisce all'uomo la sessualità per la procreazione che va a tutto vantaggio della natura e l'aggressività per la difesa della prole. Queste sono le leggi della natura che lo stesso Freud riconosce e colloca nell'inconscio noi sappiamo benissimo cosa c'è nell'inconscio le leggi della natura sessualità e aggressività e perché le colloca nell'inconscio perché la nostra vita rimuove questo concetto rimuove il fatto che sia la natura determinare la nostra nascita la nostra crescita la nostra generazione la nostra morte lo rimuoviamo e perciò giustamente Freud lo colloca nell'inconscio perché non ci pensiamo mai non appartiene all'ordine della nostra coscienza che è regolata dal nostro io io voglio io desidero io ho questi obiettivi io voglio raggiungere queste mete io 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 dopodiché quando uno muore giustamente Freud giustamente Sartre dice che la morte c'è l'absurdo è l'assurdo perché rispetto ai programmi e ai progetti dell'io la morte è il naufragio di tutti questi progetti per farvi capire la differenza tra specie e natura portiamo questo esempio non so se una donna decide di generare cosa succede deve assistere guardiamo le cose dal punto di vista dell'economia dell'io decide di generare deve assistere alla deformazione del suo corpo che non è la cosa più piacevole del mondo al trauma della nascita che non riguarda solamente il nascituro ma riguarda anche lei la perdita del sonno del tempo perché tutto il tempo notte e giorno deve essere dedicato alla cura del figlio talvolta la sospensione del lavoro altre volte la perdita del lavoro quindi con la perdita del lavoro anche la perdita della socializzazione dal punto di vista del dio è un disastro secco dal punto di vista della specie è un guadagno totale quindi tra specie e individuo c'è una conflittualità e questa conflittualità veniva benissimo espressa dal mondo greco che aveva dell'uomo una dimensione di lacerato e una visione del suo destino tragica la tragedia non è un'opera letteraria è la cifra della grecità Carli Aspers il più grande psicopatologo del novecento che ha scritto un libro sulla verità di mille pagine dedica una quarantina di pagine al tragico e dice che dopo la fine della grecità con la grecità finisce anche la tragedia e aggiunge che neppure Scespire è un tragico per il semplice fatto che racconta cose che assomigliano a quelle cose raccontate dalla tragedia ma non c'è più lo spirito tragico perché nella cultura cristiana non c'è la tragedia perché c'è la speranza la speranza nel futuro la speranza nella vita eterna e queste configurazioni tolgono alla condizione umana la dimensione della ineluttabilità della dimensione tragica fatta questa premessa vediamo un po' per il mondo greco la vita umana è regolata dal destino la necessità e il destino sono due parole che si assomigliano destino è ciò che sta questo vuol dire la parola destino in italiano e anche in latino e che non puoi rimuovere a tuo piacimento per cui la libertà non è ammessa e questa è anche la ragione per cui i greci pur avendo due parole per dire uomo la parola antropos e la parola aner non le usano quasi mai e usano sempre la parola tsenetos tazanatos mortale l'uomo è mortale nasce cresce genera muore come tutti i viventi Anasimandro che è il primo filosofo che ci ha lasciato un frammento non riportato ma da lui stesso scritto dice che da dove i viventi hanno la loro generazione lì hanno anche il loro dissolvimento perché devono pagare l'ingiustizia di essere vissuti al posto di altri secondo l'ordine del tempo ecco il tempo della vita che è simile a quello di tutti i viventi nascere crescere generare morire questa cosa è interiorizzata dal mondo greco se confrontiamo la morte di Socrate con la morte di Gesù vediamo che le cose sono esattamente all'opposto Socrate è in una carcere al Pireo giunge a Fedone a dirgli guarda che io ho parlato con i 30 tiranni qui fuori c'è una barca potremmo andarcene anche questo fa comodo ai 30 tiranni perché tu sei un uomo famoso in Atene e mandarti a morte potrebbe essere svantaggioso anche per i 30 tiranni se vuoi ce ne andiamo e Socrate risponde ma io vi ho insegnato a obbedire alle leggi qualunque esse siano il ciclo della mia vita si conclude quello che avevo da insegnarvi ve l'ho insegnato datemi la cicuta e non se ne parla più gente seria trascuro il confronto con il mondo cristiano perché per il mondo cristiano il dolore ha un significato mentre per i greci il dolore non ha un significato i greci dicevano quando la vita ti è favorevole espandila più che puoi e quando sopraggiunge il dolore dice la lezione stoica substine e abstine reggilo e devita di metterlo in scena perché tu non muori perché ti ammali ti ammali perché fondamentalmente devi morire nella cultura cristiana invece no il dolore ha un significato ha un senso perché riscatta dalla colpa originaria e costituisce una caparra per l'eternità e quindi il dolore è messo in vista Gesù all'ultima cena uno di voi mi tradirà va nell'orto dei Gezzemani cerca conforto presso gli apostoli che dormono si ritira di nuovo si rivolge al padre non dice se puoi allontana da me questo calice perché non si mette in discussione l'onipotenza del padre ma dice se vuoi allontana da me questo calice croce poi la corona di spine la flagellazione tre cadute sul Golgotha la spada che gli trapassa il petto e infine Abba padre perché mi hai abbandonato il dolore è messo in scena perché il dolore ha un significato nella tradizione giardico cristiana così come ha un significato anche la felicità per converso e quindi giustamente i cristiani mettono in scena il dolore mentre per i greci substine e abstine reggilo ed evita di metterlo in scena arriviamo allora a vedere un po' che cosa succede nell'ambito cristiano già che abbiamo fatto questo piccolo riferimento nell'ambito cristiano la natura non è come diceva Araclito quello sfondo immutabile che nessun uomo o nessun dio fece la natura è il prodotto di una volontà la volontà di dio che l'ha creata e quando parliamo di volontà automaticamente introduciamo la libertà la libertà di dio che poteva anche non crearla e poi viene consegnata ad Adamo sotto il segno della libertà perché allontanando Adamo dal paradiso terrestre allontanando Adamo ed Eva dio dice dominerai sugli animali della terra sui volatili del cielo sui pesci delle acque marine dominerai e adesso capiamo perché il dominio della natura portato da noi ormai non più all'uso della natura ma come giustamente dice Martin Heidegger l'abbiamo portato fino all'usura della terra questa è la ragione per cui la tecnica la scienza sono nati solo in occidente e sono nati proprio come effetto del del dire di Dio dominerai so che adesso al porto di dominerai si traduce con custodirai ma non è interessante sapere qual è l'originaria etimologia di questa parola aramaica perché quello che conta è l'effetto si è detto per duemila anni dominerai al punto che Thomas Hobbes no scusate Bacone quando scrive il nuovo Morgan non dice addirittura che attraverso la scienza e la tecnica ridurremo le colpe connesse al peccato originale ovvero la fatica del lavoro e il dolore quindi anche la scienza nasce in perfetta conseguenzialità con la configurazione biblica e anche l'opposizione tra scienza e religione è un'opposizione sostanzialmente insignificante perché il cristianesimo cambia anche tutto l'ordine del tempo il tempo per i greci era kyklos era ciclo simile al tempo degli agricoltori inverno primavera autunno estate autunno e poi il ciclo si ripete e chi aveva visto molti cicli che erano i vecchi potevano insegnare ai giovani che ne avevano visti pochi il cristianesimo cambia radicalmente l'ordine del tempo non più ciclo ma una dimensione rettilinea con la qualificazione delle temporalità passato presente futuro qualificati in maniera diversa il passato è male il peccato originale il presente è redenzione il futuro è salvezza il futuro è sempre positivo la scienza ragiona alla stessa maniera il passato è ignoranza il presente è ricerca il futuro è progresso il futuro è sempre positivo sotto questo profilo anche Marx è un grande cristiano il passato è ingiustizia sociale il presente è far esplodere le contraddizioni del capitalismo il futuro giustizia sulla terra anche Freud che scrive un libro contro la religione dal titolo l'avvenire di un'illusione dice che i traumi le nevrosi si formano nel passato presente terapia futuro guarigione tutto i cristiani in occidente anche gli atei sono cristiani perché il cristianesimo non è solo una religione è un incoscio collettivo è una cultura il cristianesimo è la ragione per cui ogni volta che guardiamo avanti pensiamo che il futuro possa portare rimedio al passato questo è cristianesimo oppure usiamo quelle parole che sovrabbondano nella bocca dei politici speriamo auguriamo ci auspichiamo tutte parole della passività che però in prospettiva hanno il futuro come rimedio del presente e del passato ecco questa dimensione della speranza che Pasolini giustamente aveva tolto dal suo vocabolario esattamente come avevano fatto i greci quando nel Prometevo incatenato il coro dice tu hai portato tu Prometevo hai portato la tecnica agli uomini hai portato la capacità del calcolo rendendole da indifesi e muti in padroni delle loro menti ma non è che hai fatto delle promesse che non sei in grado di mantenere alludendo all'ultrapassamento della morte a una vita oltre la morte o al non morirete mai e qui Prometevo confessa sì ho dato loro cieche speranze tu flas e pidas e allora giustamente Zeus ti ha incatenato la roccia e ti ha mandato un'aquila che tirò del fegato che si riforma in continuazione per garantire l'eternità del supplizio perché ha ingannato i mortali questo è il quadro noi siamo figli della cultura cristiana e la cultura cristiana ha vinto sulla cultura greca proprio perché ha oltrepassato la dimensione tragica dei greci attraverso la figura della speranza dice dice che il colpo di genio del cristianesimo consiste nell'avere annunciato agli uomini voi non morirete mai del resto quando Paolo di Tarso all'area opago va ad annunciare ai greci che i cristiani dopo la risurrezione di Cristo sarebbero stati sarebbero alla loro volta risorti andate a leggere Luca l'autore degli atti degli apostoli al capitolo 14 apro le virgolette alcuni risero altri gli dissero questa storia ce la viene a raccontare un'altra volta chiuse le virgolette questo per dire la distanza abissale che c'è tra la grecità e il cristianesimo e tutti coloro che tentano di far passare la grecità come anticipazione del cristianesimo e in particolar modo Platone a cui si deve l'introduzione del concetto di anima assolutamente assente nella cultura giudaica e nella cultura cristiana qui non sto a dimostrarvi perché altrimenti dovrei fare un'altra conferenza mi basta semplicemente dirvi che i cristiani quando recitano il loro atto di fede non dicono di credere nell'immortalità dell'anima ma nella risurrezione dei corpi e da resto il centro del cristianesimo è proprio l'incarnazione il farsi corpo del figlio di Dio ed è anche la ragione per cui le nostre chiese sono piene di immagini corporee cosa che non vediamo nelle sinagoghe degli ebrei e tantomeno nelle moschee dei musulmani chiudiamo questo capitolo per farvi capire questa grande differenza ed evitare di confondere queste due culture che sono la base dell'occidente dove risultare vittoriosa la cultura cristiana perché dico questo? perché al cristianesimo interessa la parola libertà e l'interessa perché se tu sei libero sei responsabile delle tue azioni e se sei responsabile delle tue azioni sei punibile e voi capite che questa macchina funziona benissimo ammettere la libertà significa ammettere la responsabilità ammettere la responsabilità significa ammettere significa ammettere la punibilità e senza di questo come si fa? al punto che nel 1500 quando Martin Lutero dice che noi non ci salveremo come effetto delle nostre opere buone ma semplicemente per la predestinazione della grazia di Dio gli umanisti italiani hanno capito l'antifona e hanno chiamato Martin Lutero Martinus Eleuterius il liberatore colui che ha liberato gli uomini dal concetto di libertà così noi non siamo più responsabili e quindi punibili la cultura cristiana non è una cultura qualsiasi perché ha dato fondamento a tutto l'ordine giuridico europeo l'ordine giuridico europeo è un ordine fondato sull'etica cristiana l'etica cristiana è caratterizzata dall'intenzione tu per fare un peccato mortale devi avere piena avvertenza cioè deve funzionare la testa devi pensare di farlo e deliberato consenso cioè devi volerlo fare quell'atto devi sapere che atto è di volerlo fare e un'etica dell'intenzione ha costruito tutto l'ordine giuridico europeo perché come funziona l'ordine giuridico europeo che io faccio un'azione malvagia e di questa azione io sono colpevole se avevo intenzione di farla se invece mi è capitato di prendere sotto una persona in un'automobile senza avere intenzione di ammazzarla il mio delitto non indica una colpevolezza non è colpevole ma è colposo oppure è intenzionale oppure è pretro intenzionale questa cultura dell'intenzione è il fondamento dell'ordine giuridico europeo ora come dirà giustamente Max Weber un'etica dell'intenzione non serve a niente nell'età della tecnica dice Max Weber bisogna perché come si fa a indagare le intenzioni come si fa a entrare in interioritate ominis dov'è l'evidenza ecco allora bisogna sostituire questa etica dell'intenzione con l'etica della responsabilità l'etica della responsabilità cioè tu rispondi delle tue azioni degli effetti delle tue azioni non è interessante conoscere che intenzioni aveva Oppenheimer oppure Fermi quando aveva inventato la bomba atomica molto più interessante è conoscere gli effetti della bomba atomica e allora si sposta l'asse dall'intenzione agli effetti dell'azione che è una cosa molto interessante però dopo Max Weber apre una parentesi finché gli effetti sono prevedibili chiudo la parentesi ne apro una io gli effetti della scienza e della tecnica non sono assolutamente prevedibili chiudo la parentesi assumetelo come un dogma perché dovrei fare una conferenza per farvi vedere che non sono prevedibili quelli che noi assumiamo come effetti della scienza non sono le finalità che la scienza si propone ma sono i risultati fortunati delle procedure con cui si muove per prove ed errori questa questa dimensione del diritto ci porta a considerare il diritto come è stato concepito brevemente tutti questi passaggi li faccio un po' dogmaticamente perché altrimenti dovremmo stare qui una giornata a fare un seminario il diritto a Roma si ritenevano liberi quelli che non lavoravano non era una libertà di scegliere era una libertà dal lavoro e coloro che venivano emancipati dalla schiavitù si chiamavano liberti liberati dall'obbligo del lavoro la magna carta che introduce la parola libertà freedom non la usa nell'accezione di libertà di fare quello che voglio ma la usa nell'accezione di libertà dalla legge libertà sa legge siamo nel 1300 la prima costituzione che nasce in Europa parla di libertà come libertà dalla legge che è altra cosa di fare quello che si vuole libertà dalla legge di cui anche noi abbiamo fatto esperienze recenti e poi Ops nel 1500 1600 stabilisce che questa libertà degli individui o che gli individui credono di possedere deve essere limitata perché perché gli uomini funzionano a base pulsionale ecco qui la parola pulsione che abbiamo iniziato a nominare in antitesi all'istinto perché l'istinto è una risposta rigida la pulsione invece è una spinta indeterminata e quindi imprevedibile nelle sue manifestazioni e allora queste pulsioni vanno limitate per cui la presunta libertà degli individui va consegnata allo Stato nasce l'assoluttismo il leviatano lo Stato che diventa il governatore dei comportamenti limiti i comportamenti di ciascuno di noi e attraverso questa delega allo Stato della libertà sottratta agli individui si raggiunge una sorta di pace sociale secondo Ops la parola libertà sempre nell'ordine giuridico torna in campo con la rivoluzione francese no? Liberté egalité fraternité la rivoluzione francese mette in circolazione queste tre figure che sono il fondamento dell'illuminismo e qui comincia una guerra tra cristianesimo e illuminismo che continua tutt'oggi semplicemente perché non si considera che le conquiste della rivoluzione francese libertà uguaglianza e fraternità non sono altro che la ripresa degli annunci cristiani perché l'annuncio cristiano è non ci sono più né schiavi né padroni quindi siamo liberi siamo tutti figli di Dio quindi siamo uguali il comandamento cristiano dell'amore viene riprodotto nella figura della fraternità l'illuminismo non è altro che la ripresa in forma laica dei messaggi cristiani né più né meno tante volte a riflettere a pensare si evitano un'infinità di guerre inutili solo che Marx si dice la libertà è vero che la rivoluzione francese ha reso liberi i cittadini da che cosa liberi dal feudalesimo liberi dal dominio della nobiltà e del clero però è una libertà solo formale perché a decidere della libertà è il denaro è chiaro che uno che ha i soldi è più libero di uno che gli ha di meno questo dice Marx e qui dobbiamo fare un ricorso ad un argomento a un teorema di Hegel Hegel dice che quando un fenomeno aumenta quantitativamente quantità non abbiamo solo un aumento quantitativo di quel fenomeno ma abbiamo anche un cambiamento qualitativo radicale del paesaggio giusto per fare un esempio se qui viene un terremoto di due gradi della scala Richter nessuno se ne accorge ma se viene un terremoto che aumenta quantitativamente fino a diventare di nove gradi della scala Richter questo paesaggio è stravolto allora l'aumento della quantità determina una variazione della qualità del paesaggio radicale dice Hegel e Marx utilizza questo argomento hegeliano a proposito del denaro là dove dice che il denaro viene da tutti concepito come un mezzo i cui fini sono soddisfare i bisogni e produrre i beni ma dice Marx se il denaro aumenta quantitativamente fino a diventare la condizione universale per soddisfare qualsiasi bisogno e per produrre qualsiasi bene il denaro non è più un mezzo ma diventa il primo fine per ottenere il quale si vedrà se soddisfare i bisogni e in che misura produrre i beni capovolgimento dei mezzi infini ora il denaro è diventato generatore simbolico di tutti i valori di per sé non era così all'inizio perché per esempio Aristotele dice che il denaro col denaro non si può arricchirsi perché il denaro non è un bene ma è il simbolo di un bene e infatti il denaro che i greci chiamano nomisma viene da nomos è la legge che autentica che quel denaro è denaro autentico è il valore del denaro è la legge e quindi il valore del denaro è simbolico è convenzionale è stabilito dalla legge e con i simboli non si fa ricchezza qui c'è un punto di contatto tra questa impostazione di Aristotele e l'impostazione cristiana perché leggiamo nel Vangelo l'espressione mutum date ne l'indes perantes donati il denaro mutum date senza sperare nella restituzione cioè la carità provate a dirlo alle banche le quali si chiamano tutti con nomi cristiani no? San Paolo Santo Spirito Sant'Antonio però il messaggio evangelico è stato tradito mutum date provate fate un mutuo senza attendere le restituzioni e però il denaro ha avuto anche un effetto positivo perché il denaro ha consentito una prima liberazione dalla schiavitù e dalla servitù della gleba ha liberato se vogliamo usare questa parola l'uomo perché mentre prima lo schiavo o il servo della gleba doveva dare tutta la sua vita al padrone tutta la sua esistenza con l'introduzione del denaro dava al padrone solamente la sua opera il denaro remunerava l'attività di colui che era subordinato e però lasciava libera la sua vita e quindi il denaro ha fatto questa leggera emancipazione ma poi è diventato il generatore simbolico di tutti i valori e in questa versione si è autonomizzato dalla società il mercato si è autonomizzato dalla società e ha imposto alla società le sue leggi il mercato quando Kant dice l'uomo va trattato sempre come un fine mai come un mezzo e assume questo principio come principio di fondo dalla sua etica sta dicendo una cosa molto bella e molto giusta anche se molto cristiana e lui pensava di fondare un'etica esclusivamente sulla ragione perché diceva non si può dedurre l'etica dalle religioni perché le religioni sono tutte diverse siccome gli uomini invece devono convivere con un'unica etica bisogna fondare un'etica esclusivamente sulla base della ragione e però assume l'uomo come unico fine e quindi non fa che riprendere il motivo cristiano secondo cui l'uomo è al vertice del creato e tutte le altre cose ai suoi occhi sono mezzi cosa succede? però assumendola quest'etica che Kant sapeva benissimo che non si sarebbe realizzata lui la chiamava un'idea regolativa regolative sono quelle idee verso cui dobbiamo tendere anche se non si realizzano mai come non so l'idea di democrazia non si è ancora realizzata ma verso cui dobbiamo tendere in continuazione ma che significa trattare l'uomo come un fine e mai come un mezzo? no è sufficiente che facciamo riferimento a un immigrato un immigrato che viene da noi quando viene accolto quando diventa mezzo di produzione mezzo di profitto il fatto che sia un uomo non giustifica l'accoglienza e allora oltre a questo c'era il fatto che all'epoca di Kant la terra era abitata da 800 milioni di persone oggi è di quasi 8 miliardi l'uomo sempre al vertice del creato che può fare della natura tutto quello che vuole e siamo arrivati a quella conclusione per cui l'uomo è un fine tutto il resto è un mezzo ma la domanda è l'aria oggi è un mezzo o un fine da salvaguardare? l'acqua è un mezzo o un fine da salvaguardare? è la flora è la fauna è l'atmosfera la biosfera tutti i mezzi sono in vista dell'uomo vedete lo strascico cristiano come funziona perfettamente e voi sperate che con questo strascico e questo inconscio collettivo si arrivi alla salvaguardia della terra vi concedo la speranza io non ce l'ho questa dimensione però il mercato almeno ha una sua razionalità è più razionale di quanto non sia il furto di quanto non sia la rapina di quanto non sia la guerra di quanto non sia l'occupazione degli stati che ci stanno a fianco di quanto non ci siano tutte queste forme di violenza Max Weber dice che tutto sommato il mercato ha la forma più razionale la parola ha ragione non è mica nata in filosofia è nata in ambito economico il termine razio era l'equivalente che tu mi devi dare perché io ti do una cosa se ti do un vitello e tu mi dai cinque capretti i cinque capretti sono la razio equivalente ecco nasce in economia la parola ragione e la razio diventa la razionalità del mercato il quale mercato è una struttura razionale e la razionalità raggiunta dal mercato è una razionalità molto rigorosa che consiste nel raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi però il mercato ha ancora una passione umana c'è qualcosa di umano che ancora conserva che è la passione per il denaro e più in alto della razionalità del mercato c'è la razionalità della tecnica la quale non ha passione umana perché la tecnica non produce un senso non apre scenari di salvezza non dischiude orizzonti di speranza non redime la tecnica funziona e siccome il suo funzionamento diventa universale universale diventano i suoi valori che sono efficienza produttività velocizzazione del tempo e l'uomo cosa diventa in questo scenario l'uomo diventa un funzionario di apparati tecnici è libero di fare quello che vuole no all'interno degli apparati tecnici lui deve svolgere le azioni descritte prescritte dall'apparato e se non lo vuol fare l'apparato lo espelle se un direttore d'area di banca dà ordine ai suoi funzionari non so di vendere al mese mille titoli deteriorati a coloro che non si intendono di finanza tipo le persone anziane vecchietti io stesso il funzionario di banca può avere degli scrupoli di coscienza contano questi scrupoli no può disattendere l'ordine del capo area no e allora dov'è la libertà deve semplicemente subire questo modello secondo Gunther Anders è stato ideato in epoca nazista Gunther Anders è un allievo di Heidegger che è andato in America perché era ebreo per non essere perseguitato si è messo a lavorare alla Ford e un giorno ho scritto ad Heidegger maestro lei mi ha insegnato che l'uomo è il pastore dell'essere io qui alla Ford sono il pastore delle macchine e nel rapporto uomo-macchina la guida è già passata alla macchina però Gunther Anders dice anche che questo modello dell'età della tecnica che produce l'uomo a funzionare da parato dopo spieghiamo bene cosa vuol dire funzionare da parato è stato ideato in epoca nazista e qui non vi faccio tutti i ragionamenti che fa Gunther Anders ma ne faccio uno molto semplice tratto da un libro di Gitta Sereni un giornalista ungherese che ha intervistato per 170 volte ha fatto 170 interviste a Franz Stangl che era il capo del campo di concentramento di Treblinka queste 170 interviste le potete leggere in un libro pubblicato da Delphi che ha per titolo In quelle tenebre beh Gitta Sereni interroga e durante queste interviste gli chiede più volte cosa provava lei a fare le cose che faceva e Gunther Anders non risponde mai a un certo punto a Gitta Sereni viene un sospetto vuoi vedere che Franz Stangl non risponde non perché si vergogna ma perché non capisce la domanda e alla fine Gunther Anders Franz Stangl risponde e dice ma scusi perché mi continuo a chiedere che cosa provavo io non ero incaricato di provare qualcosa io ero incaricato di far funzionare il sistema questo era il mio dovere io ero un ottimo funzionario io dovevo sopprimere 3.000 persone entro le 11 del mattino 5.000 entro le 5 del pomeriggio perché l'indomani si sarebbe riproposto lo stesso schema e io eseguivo perfettamente ero un ottimo funzionario usciamo da questa dimensione tragica ma però ricordiamoci questo è il modello tipico dell'età della tecnica se nel Bresciano noi siamo i più bravi al mondo a costruire le mine anti-uomo quando lì un operaio è bravo quando su 100 che ne costruisce 99 esplodono perché se ne esplodono solo 50 non è bravo allora il bene e il male dove si collocano nell'età della tecnica non in ciò che fai ma come lo fai e cosa fai? questo te lo dice l'apparato non è di tua competenza ancora con Ternandes ha chiesto a quel pilota che aveva bombardato Hiroshima e Nagasaki gli ha chiesto ma cos'hai provato tu a bombardare quelle terre e quel popolo di cui non avevi la più palle di idea e probabilmente prima che ti avessero istruito neppure sospettavi l'esistenza lui non risponde mai alla fine New York Times lo obbliga a rispondere e lui risponde con una frase molto semplice cosa provavo? nothing that was my job niente questo era il mio lavoro basta lui era un bravo pilota perché? perché le bombe le ha fatte esplodere proprio a Nagasaki e a Hiroshima le ha fatte esplodere nel mare allora cos'è bene e male oggi? è come tu svolgi le azioni descritte e prescritte dall'apparato e se io non sono d'accordo però vediamo ci sono due forme di psicologia di psicoterapia si chiamano cognitivismo e comportamentismo cognitivismo tu hai idee diverse dall'apparato in cui ti trovi hai due chance o fai la guerra con l'apparato ma uscirai sempre sconfitto e andrai incontro alla depressione e siccome non puoi modificare l'apparato devi modificare il tuo modo di concepire le cose devi uniformarti all'apparato comportamentismo devi comportarti in maniera tale deve essere omogeneo all'apparato queste cose prima ancora che nascesse l'età della tecnica in questa modalità così rigorosa le aveva già bene evidenziate in essere tempo Heidegger nel 1927 quando diceva parlava della dittatura del sì sì impersonale man mangiamo e beviamo come si mangia e come si beve parliamo d'arte e di letteratura come si parla d'arte e di letteratura troviamo scandaloso ciò che si trova scandaloso ci ritiriamo dalla gran massa come ci si ritira dalla gran massa siamo diventati tutti quanti sotto la dittatura del sì siamo diventati tutti conformisti dove è la libertà abbiamo il coraggio e riprendo qui una frase bella di Nietzsche là dove dice dall'introduzione così parla Zaratustra parla degli ultimi uomini i quali dicono noi abbiamo inventato la felicità una vogliuzza per il giorno una vogliuzza per la notte fermo restando alla salute e Nietzsche commenta l'umanità è un solo greggio e quando l'umanità diventa greggio desidera solo l'animale capo e chi pensa diversamente se ne va spontaneamente in manicomio Nietzsche che viene prima di Adiger però ha già capito questo andazzo verso l'omologazione e l'uniformità di tutti i comportamenti dopodiché noi siamo lacerati non nella maniera tragica e fantastica dei greci su problemi veri che è il problema della morte siamo lacerati dal fatto che per 5 giorni alla settimana dobbiamo essere funzionari di apparato e poi abbiamo due giorni alla settimana in cui se in un momento abbiamo ancora qualche interesse per noi possiamo occuparci di quel che siamo cosa che non è molto frequente perché funzionare di apparato una volta una volta lo si era in una maniera addirittura grossalana non so pensiamo alla catena di montaggio oggi in una maniera molto più sofisticata raccolgono di noi i nostri micro comportamenti micro bisogni micro desideri li organizzano nei big data l'organismo li sistema e salta fuori un profilo il profilo riproduce chi noi siamo no il profilo riproduce quello a cui serviamo tu servi per questo il tuo profilo è giusto per questo tipo di servizio e questa mentalità del servire è già diventata una mentalità diffusa il ministro della pubblica istruzione inglese nel mese di luglio ha invitato gli studenti a non iscriversi alle facoltà umanistiche perché non servono a niente e anche oggi gli studenti incominciano a chiedersi cosa serve il latino cosa serve il greco cosa serve la filosofia certo non servono a niente Aristotele aveva già detto cosa serve la filosofia dice la tradizione che la sua risposta è la filosofia non serve a niente perché non è una serva ma la filosofia serve per pensare il greco serve per pensare il latino serve per pensare sono luoghi di formazione e dalla prima elementare al 18 anni la scuola deve occuparsi della formazione non delle competenze le competenze le impari dopo e nell'età della tecnica sono molto semplici perché uno che non è un uomo e ha competenze è un animale diventa un animale feroce le competenze vabbè oltrepassiamo questo stadio allora noi siamo sottoposti a quella che chiamiamo una schizofrenia funzionale funzionale degli apparati e poi due giorni se siamo ancora interessanti ci occupiamo di noi solo che se questa razionalità della tecnica diventa la modalità del nostro modo di pensare e allora è un disastro giustamente Heidegger nel 1952 non era ancora nata l'informatica ma sotto questo profilo avendo poi lui un po' fiancheggiato il nazismo aveva capito come funzionava e quindi in qualche modo non gli era difficile fare il profeta di quello che sarebbe avvenuto dopo dice inquietante non è che il mondo si risolve in un unico enorme apparato tecnico la cosa più inquietante è che non siamo affatto preparati a questa radicale trasformazione del mondo ma la cosa ancora più inquietante siamo al terzo grado di inquietudine è che noi finiremo con non avere altro pensiero alternativo al pensiero capace solo di far di conto denken als recknen pensare uguale calcolare calcoli economici calcoli tecnici senza disporre di un pensiero alternativo vuole la scuola creare un pensiero alternativo al pensiero in grado solo di calcolare altrimenti l'umanità è finita perché noi capiremo solo quello che è utile e non capiremo più che cosa è bello che cosa è buono che cosa è santo che cosa è giusto solo ciò che è utile si dirà ma almeno abbiamo salvaguardato in termini di libertà l'amore una volta l'amore anche da noi avveniva alla maniera talebana erano i genitori che in qualche modo decidevano chi dovevi sposare e questo valeva sia per i ricchi sia per i poveri perché dietro lo sposalizio e dietro il matrimonio c'era il patrimonio per i ricchi e dietro il matrimonio c'erano i figli che erano l'opportuna mano d'opera per tirare avanti per tirare avanti e creare i mezzi di sussistenza l'amore invece adesso è libero ma qui Freud ci avverte con la solita sua perspicacia tu scambi la libertà pensi di essere libero pensi che siano tue scelte quelle invece che sono tue pulsioni o tue passioni tue scelte non so quando io ti do il mio amore che cosa ti sto dando per davvero ti sto dando il mio desiderio la mia passione la mia immaginazione la mia idealizzazione l'angoscia della mia solitudine il mio desiderio di uscire di casa che cosa ti sto dando chi è l'io che parla e tanto per inciso chi sei tu e questa è anche una delle ragioni per cui quando uno dice io ti amo l'altro stenta un po' a crederci perché l'amore non è una faccenda dell'io e come dice giustamente Freud l'io non è padrone in casa propria e chi c'è d'altro c'è la specie che produce sessualità e aggressività per la sua economia e attraverso l'inganno del piacere sessuale ottiene i vantaggi della continuità di sé medesimo quindi noi anche qui confondiamo le nostre scelte con le nostre passioni e d'altra parte anche la parola passione dice chiaramente che noi siamo passivi provate a far ragionare un innamorato dice ma guarda quella ragazza quella ragazza non è adatto per te la risposta più frequente è sì lo so ma non posso farci niente e allora sono nostre scelte quando non puoi farci niente no sono passioni ciò che è qualcosa che tu subisci e allora Freud ci dice che c'è un inconscio pulsionale che ci spinge verso eventi erotici che però siamo spinti non è che scegliamo un inconscio sociale che lo chiama super ego per cui noi interiorizziamo i divieti dei genitori poi i divieti della società le regole della convivenza le interiorizziamo e le applichiamo automaticamente anche il super ego è inconscio per uscire di casa nessuno viene in mente non è che deve fare un ragionamento uno per vestirsi si veste perché quando si esce di casa bisogna vestirsi questo l'abbiamo imparato da piccoli ma i piccoli uscirebbero anche nudi se è per questo man mano che l'educazione interiorizza le regole della convivenza poi le regole della convivenza vengono interiorizzate anche dalla società e anche questo inconscio ci governa Freud all'io concede il 15-20% dell'apparato psichico perché il 30-40% è occupato dall'economia della specie quello che lui chiama ES pronome neutro la specie ESSO ESSA l'altra metà è occupata dall'esigenza della società super ego e l'io non è padrone in casa propria e sta in piedi finché riesce a equilibrare le spinte dell'una e le spinte dell'altra perché la società si esprime attraverso i divieti le pulsioni si esprimono attraverso invece la massima espansione e lì deve fare continuamente un lavoro di equilibrio non è padrone in casa propria Dio io a questi due inconsci ne aggiungerei un altro che chiamo inconscio tecnologico che consiste nel fatto che abbiamo interiorizzato le esigenze della tecnica che sono efficienza produttività velocizzazione del tempo la nostra psiche è lenta la psiche umana è lenta rispetto alla velocità con cui oggi dobbiamo operare pensate a differenza da quando ricevevamo una lettera per rispondere potevamo metterci una settimana 15 giorni e se quell'altro ci avesse telefonato sul telefono fisso guarda che ti ho mandato una lettera mi dispiace ma le poste non funzionano si guadagnava tempo perché la psiche è lenta ora la psiche è costretta oggi a correre con la velocità dell'efficienza e della produttività e come fa ce la fa o non ce la fa non ce la fa non ce la fa e noi italiani siamo arrivati pur essendo un popolo che ha il sole che mangia bene che parla molto parlare fa bene a differenza dei nordici che non parlano e poi si suicidano parla bene parla molto ciò nonostante siamo arrivati all'utilizzo del 55% di psicofarmaci 55% e chi non usa psicofarmaci si fa un po' di cocaina quindi siamo in una condizione di continuo stress al punto che è cambiata la patologia della depressione se voi aprite qualsiasi libro di psichiatria e qui consiglierei agli psichiatri di dare un'occhiata ogni tanto anche ai libri di sociologia non solo a quelli di psichiatria per non ripetere eternamente se stessi perché la psichia cambia con la storia non è come la medicina dove un mal di fegato dei greci è uguale al mal di fegato di oggi la psichia cambia con la storia perché la psichia è la nostra risposta al mondo e lo bisogna leggere anche il di fuori della psichiatria beh la psichiatria qualsiasi libro di psichiatria che trovate trovate che alla base della depressione c'è il vissuto della colpa la tematica è la colpa ma questa roba vecchia di quando noi appartenavamo alla società della disciplina dove la regola era permesso e proibito e a ogni trasgressione ti veniva la colpa quando la colpa poi diventava irreparabile incominciava il ciclo della depressione pesante della depressione profonda della depressione grave che ti portava all'immobilità a guardare il soffitto e poi a organizzare il suicidio la depressione è descritta così ci sarà ancora probabilmente ma in realtà è cambiata la depressione perché non siamo più nella società della disciplina in cui si discute del permesso proibito siamo nella società dell'efficienza e nella società dell'efficienza la regola è quella dell'inadeguatezza sono adeguato o inadeguato ai ritmi che mi impone il mio apparato di appartenenza sono adeguato o non sono adeguato sono all'altezza o non sono all'altezza delle azioni raggiungono o raggiungono gli obiettivi che mi vengono fissati e ogni anno mi si alza l'asticella dopodiché tutte le caratteristiche della depressione che non hanno più come tematica la colpa la colpa è stata sdoganata ma è diventata più feroce quella dell'efficienza e allora abbiamo l'ansia abbiamo l'insonnia abbiamo la depressione non abbiamo più il tempo di guardare in faccia i nostri figli non abbiamo più niente perché siamo diventati dobbiamo muoverci alla velocità e all'altezza della richiesta dell'apparato la depressione ha cambiato forma non più la colpa ma l'inadeguatezza ed è qualcosa che tutti quanti noi sperimentiamo chi lavora lo sa bene a questo punto arrivo alla conclusione che dirò in due parole dunque della libertà abbiamo detto non esiste ma esiste l'indeterminatezza l'indeterminatezza che deve essere regolata da codici culturali istituzioni leggi politiche ma non esiste perché ormai sappiamo tutti di essere determinati geneticamente no? la genetica ci dice che non siamo liberi di ammalarci o di morire quando vogliamo ma è tutto già codificato la genetica poi i genetisti per non spaventare troppo le persone dicono sì però è vero la genetica ti codifica determinismo duro però c'è l'ambiente l'ambiente ma l'ambiente è peggio della genetica se io fossi nato in Afghanistan sarei un talebano sono nato qua e sono stato tu cristiano ma allora l'ambiente l'ambiente è l'educazione che hai avuto l'ambiente sono i maestri che hai incontrato l'ambiente dove sei nato la lingua che hai parlato e tu sei quella roba lì sei quella roba lì è l'ambiente codificante esattamente come è codificante a livello biologico la genetica a questo si sta allineando anche l'ordine giuridico lo fa sotto traccia perché non lo può dire esplicitamente ricordo un episodio di una decina di anni fa che c'era un operaio sardo che lavorava alla Volkswagen e che poi in una lite con un suo compagno di lavoro l'ha ammazzato a questo operaio sardo il giudice non ha dato una pena pesante come la si doveva dare e c'è stato un po' di di rifiuto da parte di questa sentenza non solo da parte dei tedeschi ma anche da parte dei sardi perché tra le motivazioni c'era anche quella che questo signore che è vissuto sempre in mezzo alle montagne ha passato la sua vita a sgozzar capretti in un momento di ira si è comportato esattamente come il suo ambiente l'aveva costruito l'ambiente è codificante non siamo liberi i Novak che cos'hanno sono frutti dei loro ambienti come sono state costruite le loro idee ecco l'importanza della filosofia la filosofia non sa niente il sapere lo sa la scienza perché la scienza è il sapere oggettivo valido per tutti è riproducibile ovunque da chiunque con il medesimo risultato più chiaro di così si muore ecco le tue opinioni invece le tue opinioni a parte che devono essere continuamente messe sotto 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 vaglio devono essere continuamente criticate ed è bene che incominci la filosofia nelle scuole elementari in prima elementare perché la filosofia non è un sapere è un atteggiamento e l'atteggiamento di mettere in questione le proprie idee e di mettere e di sporsi quindi al dialogo di sporsi quindi al dialogo il dialogo non è una cosa tranquilla ci abbracciamo ci abbacciamo no? il dialogo è una cosa è una guerra tutte le parole greche che incominciano con dia qui abbiamo il professor di origi che le cose le sa meglio di me come funzionavano le parole greche e le parole latine e faccio complimenti alla sua presenza e lo ringrazio di essere qui anche se mi vergogno a parlare di queste cose un po' brutalmente a differenza di lui che le riesce a dire con molta più contezza di me tutte le parole greche che incominciano per dia indicano la massima distanza diametro la massima distanza dei due punti della circonferenza diavolo è il massimamente distante da Dio dialogo vuol dire che possono dialogare coloro che hanno idee diverse perché se abbiamo le stesse idee ci scambiamo pacche sulle spalle non se ne parla più non è che si dialoga il dialogo prevede che l'altro la pensa diversamente da me ma per poter dialogare è necessario primo che nessuno ritenga di essere nella verità assoluta la prima condizione se no non puoi parlare e soprattutto dialogo significa che tu devi ipotizzare che l'altro abbia un gradiente di verità superiore al tuo in modo che tu possa arricchire la tua visione del mondo questa è la funzione del dialogo arricchirla con la funzione dell'altro ecco se queste cose non si imparano io vedo per esempio che i bambini in prima e seconda elementare giocano tranquillamente anche con i visetti neri e con gli occhietti a mandarla poi a partire dalla terza e quarta elementare non giocano più e si vede che qualcuno gli ha detto che non si deve frequentare quelle persone allora l'ambiente conta non è una dimensione libera e infine vi do il colpo di grazia no non non nel senso di deprivermi la libertà confligge col concetto di identità non c'è un'alleanza tra identità e libertà io sono libero no tu non sei libero e far niente identità che cosa vuol dire che se io sono io non posso essere diversamente da come sono non posso comportarmi diversamente da come sono codificato dalla genetica e dall'ambiente a meno di non essere il dottor jackie e il mister hide ma allora qui entriamo nella patologia della doppia personalità o della schizofrenia ma altrimenti no infatti l'identità è così poco libera di essere diversa da quella che è che costituisce l'elemento il fondamento della fiducia sociale io mi fido di te perché da te mi aspetto questi comportamenti perché ti conosco perché ho conosciuto la tua identità cui segue questi comportamenti che a me vanno bene la fiducia sociale si fonda sull'identità ma l'identità ti impedisce di fare quello che vuoi Jean Paul Sartre una volta è andato in montagna senza guida è caduto è andato all'ospedale con la gamba tirata è andato a trovarlo al suo amico Merleau-Ponty e gli ha detto ma scusa ma tu vai in montagna da solo su quelle montagne lì non potevi andare con una guida e Jean Paul Sartre gli ha detto secondo te io sono uno che va in montagna con la guida no Jean Paul Sartre non va in montagna con le guide cioè la sua identità non gli consente la scelta di andare in montagna con la guida così come l'identità di uno più prudente non gli consente di andare in montagna per conto suo senza guida capite dove la trovate la libertà dopodiché non vi voglio convertire ad altri scenari se vi fa piacere sentirvi liberi perché no tutto quello che aiuta a vivere ragazzi anche le menzogne più strane se aiutano a vivere tenetevele pure ma un po' di riflessione sulla conciliazione tra identità e libertà dobbiamo fare grazie grazie